Diventare la cinghia di trasmissione tra le marche e il governo nazionale per far sì che la nostra regione non sia più una delle cenerentole d'Italia. E' questa l'intenzione di Antonio Baldelli, candidato al plurinominale alla Camera dei Deputati per Fratelli d'Italia alle elezioni politiche del 25 settembre. Ho accolto le scelte che ha fatto Giorgia Meloni anche perché il compito della pattuglia che secondo i sondaggi sarà numerosa di parlamentari di Fratelli d'Italia eletti nella regione Marche sarà quello di fungere da collegamento diretto da tre d'union tra il governo nazionale che tutti noi ci aspettiamo essere a guida Giorgia Meloni ma anche così ci indicano i sondaggi e il governo regionale del presidente Acquaroli. Secondo Baldelli la nostra regione soffrirebbe da tempo di un certo deficit a livello di rappresentanza parlamentare da cui l'importanza di eleggere persone in grado di portare in aula le istanze e le urgenze del territorio e dei marchigiani stessi. I parlamentari che verranno letti dovranno tenere viva l'attenzione sui dossier più importanti che riguardano la nostra regione una regione che purtroppo fino ad oggi è stata sempre una cenerentola perché la rappresentanza parlamentare non è mai stata adeguata a tutelare gli interessi della regione Marche. Per il candidato di Fratelli d'Italia la giunta regionale guidata da Francesco Acquaroli anche egli esponente del partito di Giorgia Meloni starebbe mettendo in atto un autentico cambio di passo per la nostra regione. Ma c'è ancora tanto da fare e ritrovarsi in Parlamento farebbe senz'altro bene alla causa. Da qui lo slogan scelto da Baldelli, dal governo delle Marche alle Marche al governo. Tra i nodi centrali c'è quello delle infrastrutture attraverso le quali restituire un nuovo slancio alle Marche e alla sua economia. Penso ad esempio alla linea ferroviaria adriatica e al suo arretramento, penso ad esempio alla Fano Grosseto visto che siamo proprio oggi in provincia di Pesero e Orbino. La prima cosa da fare è sicuramente sollevare le Marche e la parte nord delle Marche dall'isolamento viario e dalla mancanza di infrastrutture moderne adeguate a questo secolo. La sicurezza scolastica è un altro caposaldo. Baldelli rivendica la bontà dell'iniziativa della giunta regionale di finanziare l'installazione di impianti di ventilazione meccanica in grado di ridurre drasticamente il rischio di nuovi contagi tra i banchi. Tra le sfide vi è senz'altro quella del caro energia. Secondo Baldelli, differenziare l'approvvigionamento delle risorse e sbloccare la stretta connessione tra il costo dell'energia elettrica e quello del gas sono i due primi passi da compiere. Poi c'è la sanità. La mancanza di personale e la carenza di pediatri di libera scelta sono due tra i problemi da affrontare. E secondo il candidato di Fratelli d'Italia, porre fine al numero chiuso nelle facoltà di medicina potrebbe essere un buon punto di partenza. La giunta a Quaroli si sta adoperando per risollevare dalle macerie una sanità pubblica che è stata distrutta da Ceriscioli e dai suoi predecessori ma ha bisogno di un apporto nazionale, quello del governo, che deve comunque formare un numero adeguato di medici relativamente alle esigenze del territorio perché oggi ci troviamo persino con una fortissima carenza di medici da quegli ospedalieri a quelli persino di base. Pensiamo che in Italia, in solamente nove regioni che hanno fornito i dati, uno studio del Sole 24 Ore ha indicato 1,5 milioni di italiani che non hanno il medico di base, senza poi parlare della mancanza dei pediatri di libera scelta. Quindi il governo dovrà intervenire anche su queste questioni molto, molto importanti per i nostri territori.